di Dino Buzzati era proibito voce di Lorenzo Pieri da quando è proibita la poesia certamente la vita è assai più semplice da noi non più quella rilassatezza d'animo né quelle morbose eccitazioni né l'indulgenza ai ricordi così insidiosi per l'interesse collettivo la produttività ecco la sola cosa che veramente conti e davvero non si riesce a concepire come per millenni l'umanità abbia ignorato questa verità fondamentale entro i limiti consentiti restano come si sa alcuni inni incitanti per l'appunto alle grandi opere di profitto nazionale inni passati al vaglio della nostra benemerita censura ma si possono dire poesia no per fortuna essi fortificano l'animo del lavoratore senza aprire il varco alle peccaminose intemperanze della fantasia possono esservi da noi per fare un tipico esempio dei cuori afflitti dalle cosiddette pene d'amore si può ammettere che nel nostro mondo consacrato alle opere concrete lo spirito si perda in esaltazioni prive come ognuno deve riconoscere di qualsiasi utilità pratica certo senza un governo forte non si sarebbe potuta statuire una bonifica di così vasta portata e tale è appunto il governo presieduto dall'onorevole nizzardi forte e democratico si intende la democrazia non impedisce di usare qualora sia necessario pugno di ferro ci mancherebbe altro in particolare il più acceso propugnatore della legge che ha tolto di mezzo la poesia è stato l'onorevole walter montichiari ministro del progresso egli in realtà si è limitato a farsi interprete della stessa volontà del paese ha agito appunto su una linea squisitamente se consentita l'espressione democratica l'insofferenza della popolazione nei riguardi di quel pernicioso atteggiamento della psiche era da anni fin troppo manifesta non restava che codificarla con precise norme restrittive il tutto a beneficio della collettività poche leggi del resto portarono così insensibile disturbo alla vita del cittadino singolo chi leggeva più poesie chi ne scriveva più l'obliterazione nelle biblioteche pubbliche e private dei volumi incriminabili si è compiuta senza difficoltà di sorta anzi l'operazione è stata realizzata in un'aria di soddisfatta eccitazione quasi ci si fosse liberati di una sgradevole zavorra finalmente produrre costruire spingere sempre più in su le curve dei diagrammi potenziare industrie commerci sviluppare le indagini scientifiche rivolte all'incremento della efficienza nazionale convogliare che bella parola sempre maggiori energie nella progressiva espansione dei traffici questa semmai o con cittadini può essere poesia tecnica calcolo concretezza merceologica tonnellate metri mercuriali valori del mercato sano realismo delle cosiddette manifestazioni artistiche qualora siano ritenute indispensabili e viva l'onorevole walter montichiari ha 46 anni è abbastanza alto bell'uomo nel complesso lo sentite nella stanza accanto come ride gli stanno raccontando come i paesani hanno dato la baia al vecchio poeta osvaldo canne ma io non ne scrivo più gridava lo sciagurato giuro che da 15 anni non ne scrivo più io commercio in granaglie e basta però le hai scritte ai tuoi bei tempi porco gli hanno risposto scaraventandolo vestito di tutto punto con cappello e bastone nella vasca di un letamaio lo sentite come ride l'onorevole a un uomo sicuro di sé coi piedi piantati sulla terra di questo potete essere sicuri fa più un tipo come lui che cento cascherini vecchio stampo che appoggiati mollemente alle balaustre fissando il cielo del tramonto declamavano versi alla bella tutto del resto è concreto e positivo intorno all'onorevole e mica che sia un bruto alle pareti del suo studio pendono quadri di celebrati artisti composizioni astratte per lo più che ritemprano l'occhio dell'uomo senza coinvolgere l'animo scelta è anche la sua discoteca che testimonia un gusto incorruttibile teso ai puri valori certo non vi aspettate di trovarci smancerie tipo chopin ma in the myth c'è tutto in quanto alla biblioteca fatta astrazione dai testi scientifici e documentari non mancano diversivi per le ore di rilassamento ma sono naturalmente autori dediti alla riproduzione narrativa della vita qual è senza aggiunte o infingimenti leggendo i quali non c'è pericolo grazie a dio di sentirsi toccare nella intimità dell'animo cosa questa in vereconda che un tempo era ammessa e desiderata perfino benché si stenti a crederlo a una bella risata all'onorevole fa piacere ascoltarla essa implica completa padronanza della situazione ottimismo fiducia nei piani costruttivi ma è tranquillo come mostra di esserlo è sicuro veramente che il deprecato fenomeno sia estinto una sera dopo pranzo egli a casa sta studiando un memoriale quando entra la moglie walter sai dove sia giorgina no perché mi aveva detto che andava a fare i compiti ma in camera sua non c'è la chiamo non risponde la cerco dappertutto e non la trovo sarà in giardino in giardino non c'è sarà uscita con qualche sua compagna a quest'ora e poi no il suo cappotto è appeso in anticamera inquieti i genitori perlustrano la casa ma lei non c'è monti chiari per un ultimo scrupolo sale alla soffitta qui sotto agli sgambi travi un riflesso quieto e misterioso posa sull'abbandonata confusione delle vecchie cose disusate e rotte esso proviene da un finestrino a mezza luna che dà sul tetto il finestrino è aperto nonostante il freddo con le mani aggrappate al davanzale immobile la fanciulla sta come rapita che sta facendo lassù sola un vago odioso sospetto che egli inutilmente tenta di respingere si prospetta all'onorevole non visto sta ad osservare la figliola ma lei non si muove di un millimetro assorta guarda fuori gli occhi dilatati come se assistesse ad un miracolo giorgina la bambina un sussulto si gira di scatto il suo viso è bianco cosa fai qui lei tace cosa fai qui parla niente ascoltavo ascoltavi che cosa ascoltavi giorgina non risponde fugge i suoi singhiozzi si perdono giù per la scala l'onorevole chiude il finestrino ma prima ad andarsene dà un'occhiata fuori risorgendo quel sospetto cosa stava contemplando la giorgina cosa stava mai ascoltando ebbene nulla si vede tranne il banale panorama dei tetti deserti degli alberi spogli dei capannoni industriali di là del viale tranne l'insignificante spettacolo della luna al secondo quarto avanzato che illumina la città producendo i noti effetti luminosi le cupe ombre gli effetti di trasparenza nelle nuvole eccetera e nulla si ode tranne gli scricchioli dei vecchi legni nella soffitta e l'appena avvertibile suono come un respiro lievitante dalla città che si assopisce a poco a poco conforme al rallentamento dell'attività produttiva dovuta appunto all'ora fenomeni usualissimi privi di qualsiasi immaginabile interesse oppure fa freddo nel solaio soffi d'aria gelida si insinuano fra le connessure delle regole oppure proprio lassù sui tetti trasfigurati in certo modo dalla luna neppure lui potrebbe negarlo onestamente sta in agguato ancora la poesia questa depravazione antica e benché innocenti anche i bambini ne restano tentati senza che alcuno gliene abbia mai fatto cenno e dovunque nelle città è lo stesso come per una congiura che fermenti non bastano le leggi dunque nei castighi nell'irrisione universale a sopprimere la maledetta allora tutto quello che si è ottenuto è semplicemente una menzogna una ipocrita ostentazione di rudezza un simulato conformismo e lui montichiari perfino dentro di lui quel sentimento occulto sta forse covando poco dopo in salotto la signora montichiari dice walter non ti senti bene stasera sei pallido sei tutt'altro sto benissimo adesso anzi devo passare un momento al ministero così presto col boccone in gola non è tranquillo esce solo ma prima di salire in macchina per un istante considera la intensità rara della luna valutandone tutte le ripercussioni eventuali sono le dieci e un quarto la città oramai si è quietata dopo tanto lavoro eppure gli sembra che ci sia stasera nell'aria qualcosa di anormale una specie diminuta palpitazione di occulte presenze annidate negli angoli d'ombra così neri un occhieggiare di sentinelle nascoste dietro i camini delle case i tronchi d'albero le spente colonnette di benzina una improvvisa liberazione col favor della notte di desideri sediziosi egli stesso montichiari non si nasconde di provare una ingrata sensazione pure su di lui piovono silenziosamente dalla volta siderale cateratte di quella luce così contraria alle direttive del governo e gli viene fatto di spazzolarsi il cappotto con le mani per ripulirlo tirar via la impalpabile ragnatela di argento che sembra depositarsi a strati si riscosse salì in macchina raggiunse con sollievo il centro dove le intense luci elettriche cancellavano perlomeno sembrava lo splendore della luna entrò nel ministero salì lo scalone attraversando lunghi corridoi pieni di silenzio si avviò verso il proprio studio tutto era spento però dalle finestre i nefasti raggi entravano solo da una porta filtrava luce elettrica il ministro si fermò era la stanza del probo ed esatto professor carones l'uomo cifra capo dell'ufficio studi strano l'onorevole aprì il battente ad agio ad agio volgendogli le spalle carones sedeva allo scrittoio su cui una piccola lampada concentrava i raggi e scriveva con lunghe pensose interruzioni portava allora meditativamente alle labbra l'estremità della penna stilografica e intanto si voltava quasi a ispirarsi verso la vetrata che dava su una grande terrazza alla quale come inevitabile era battuta dalla luna per la seconda volta quella sera montichiari si trovava a sorprendere qualcuno intento a fare cose insolite e forse illecite infatti mai carones si fermava così tardi a lavorare sullo stesso tappeto senza far rumore l'onorevole si avvicinò a carones gli fu a ridosso sbirciò sporgendosi sopra le sue spalle quale rapporto o promemoria tecnico stesse mai scrivendo l'esse o muto lume tu dolcezza dal sipario buio dei capannoni metalmeccanici ti levi lanterna delle fate di pietra in moto specchio per ritrovarti che lungo viaggio la vita e qui ora stanco guardo le miserie nostre per te risplendere arcana e pura pace di plenilunio come reggia di spiriti sovrani strumento della nemesi la mano del ministro calò su una spalla di carones lei queste cose professore l'altro paralizzato dal terribile spavento emise un mugolio lei queste cose professore ma in quel mentre il telefono cominciò a suonare nell'ufficio accanto poi un altro più lontano in fondo al corridoio un terzo un quarto quindi nel palazzo addormentato ci fu un risveglio misterioso di vita come se centinaia di persone fossero rimaste nascoste negli armadi o dietro i tendaggi polverosi aspettando il segnale un furtivo strisciar di passi un diffuso brusio che si propagava intorno poi voci distinte richiami ordini secchi sbattere di porte risucchi passi in corsa precipitosi tonfi lontani monti chiari aperta la vetrata si affacciò sulla terrazza nel giardino che circondava il ministero le lampade elettriche chissà come erano spente tanto più fissa e conturbante risultava perciò la luce della luna sui viali bianchi due tre uomini passarono di corsa tenendo in mano torce accese poi un giovane a cavallo con un gran mantello rosso ora sul balcone centrale del palazzo due militari in alta uniforme si disponevano uno per parte impugnando delle lucenti spade alzarono le spade al cielo non erano trombe ne uscì un lungo squillo d'argento meraviglioso che disegnò un arco altissimo sopra le masse umane monti chiari non ebbe bisogno che gli comunicassero esplicitamente la notizia per capire la rivoluzione era caduto il ministero grazie a tutti grazie a tutti